forza che ce ne aggiungi? 7 allora 7 8 9 10 11 12 15 15 3 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 4 5 9 10 13 14 15 2 3 4 5 6 17 � 15 15 15 14 15 15 Quanto è sbagliato? 5, 4, 9, 3, 12 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12 È sbagliato 13, 14, 15, 16